No, no, sera Con il camale intendo No, noi, siamo malati, siamo psicopathe Sono cose che bisogno della musica È come un l'ospital La musica E' un pochette, non? Ciascuno, non un blousy. Tu as fatto un blousy, non un banjo. Tu as fatto un blousy. Il fallait che mi fiume del nord, del deserto. A questo momento, i jihadisti erano e mi seguivano, perché ero musicista. Quindi, mi chiede. Non ho capito, ma non ho capito. Ma musica, abbiamo capito qualcosa. Grazie a tutti.